C'è bisogno di politica nuova, fresca, con idee giovane, ma anche il supporto dell'esperienza. Questa volta portavoce del movimento diritto alla città, un movimento che crede nella politica vera, quella che la gente si attende, è Sofia Ferro. Perché questa scelta di fare politica e di essere nel movimento diritto alla città? Allora, per attitudine sono sempre alla ricerca del sapere, conoscere, scoprire, capire. Mi sono ritrovata per caso ad ascoltare esponenti del movimento diritto alla città e hanno rapito la mia curiosità. Mi ricordo di aver fatto tante domande sulla tanto criticata politica, sul significato di fare politica, su come farla, ma soprattutto sul ruolo dei giovani. A tal proposito mi è stato detto che i giovani nel presente rappresentano il pilastro e nel futuro sono tutto. È per questo che ho deciso di aderire a questo movimento. Giovane, quindi con idee assolutamente da giovane, naturalmente, ma anche con tante speranze. Cosa si aspetta, Sofia Ferro, dalla politica e da questo suo impegno? Dalla politica mi aspetto tanto. Soprattutto mi aspetto di acquisire speranza attraverso soprattutto proposte concrete. Noi giovani oggi non abbiamo speranza, speranza intesa nel senso più concreto e pratico del termine. Sappiamo di doverci impegnare, di doverci sacrificare, ma dopo, per esempio dopo l'università, cosa ci aspetta? E' per questo che cercherò di chiedere e di sollecitare proprio a dare speranza attraverso proposte concrete, ma soprattutto realizzabile, le nuove generazioni. Il motto da soli non si fa da nessuna parte, soprattutto in politica, abita in pieno, perché sono i numeri e il gruppo, è la forza del gruppo che porta avanti le idee e le fa concretizzare. Ecco, come trovi questo gruppo e come tu dialoghi col gruppo? Sì, è vero, in politica la forza lo fa il gruppo. Il nostro movimento, nato dall'idea di un piccolo gruppo, cresce soprattutto grazie alla caratteristica di sapersi aprire a chiunque, indipendentemente dall'ideologia. Oggi conta un grande gruppo formato anche da professionisti, che cerca sempre di potenziarsi, così da ottenere maggiore forza e maggiore incisività. A parole riusciamo tutti, poi in politica ci sono tanti parolieri. Quello che importa in realtà sono i fatti e siccome la realizzazione parte dalla forza di un grande gruppo, noi continuiamo ad ospicare sempre più adesioni per condividere la battaglia affinché si possa finalmente approdare una politica vera, ma soprattutto con l'apporto di tanti giovani volontariosi. L'ultima domanda, Sofia, permettila. Siamo alla vigilia di scadenze elettorali notevoli, per esempio il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana della Presidenza. Ecco, è un momento in cui un giovane può dire nella sua città cosa ha, cosa non ha. Cosa auspichi a Mazzara, si realizzi, perché un giovane possa vivere bene, attivamente, meglio ed elevare la sua qualità di vita? Intanto, da giovane, spero che altri miei coetanei si interessino intanto a partecipare, perché soprattutto la vita attiva può cercare di migliorare la nostra città. E soprattutto spero che in futuro possiamo avere più possibilità, perché so che vivere in questa terra, in queste condizioni è difficile. Per questo spero anche, in vista delle elezioni regionali del prossimo anno, magari di poter cambiare qualcosa all'interno della nostra regione. Bene, Nardo è cresciuto da un piccolo gruppo di amici di vecchia data. Il movimento diritto alla città ha avuto nel seguito diverse adesioni. E' per questo che questa è solo la prima di tante interviste, perché ogni personaggio ha una storia a sé, una mente, un cervello, una intelligenza. E quindi sono intelligenze che si propongono e che chiedono il dialogo. Grazie a tutti.